C'era una volta un piccolo principe che viveva su un pianeta poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico. Se qualcuno amia un fiore di cui esiste un sole esemplare, guardarlo basta farlo felice. La rosa diventò antipatica e lui approfittò di una migrazione di uccelli per volare via. Dopo un lungo viaggio tra vari pianeti, il principe arrivò sulla Terra. Se tu chiedi per esempio tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3, io inizierò ad essere felice. Non si vede bene che col cuore l'essenziale è visibile agli occhi. Non si vede bene che col cuore l'essenziale è visibile.